MISER Incontriamo il Giuliano, una neopromossa ma che dà filo da torcere a tutti Sì, è anche in un grande momento di forma, ho visto due o tre partite loro Insomma sono una squadra che hanno l'entusiasmo appunto come dicevi tu della neopromossa Ma sono molto pericolosi, domenica hanno battuto il Francavilla Insomma vengono una striscia di risultati importanti, stanno facendo molto bene Quindi è sicuramente una gara difficile E noi come l'abbiamo preparata? Come al solito cerchiamo di sfruttare al meglio quelle che sono le nostre capacità Vogliamo fare la partita, se non è una partita molto intensa Dove si deciderà tutto sui due livelli individuali E quindi abbiamo preparata con attenzione tattica ma anche con la spregiuricadezza Di ogni volta che c'è la possibilità di andare a fare gol E cercare di offendere e rendersi pericolosi La novità della nuova società ha creato tanto entusiasmo Lo porteremo anche in campo? Sì, lo porteremo anche in campo Anche se insomma come sapete siamo in un periodo un po' Ci mancano dei giocatori importanti Che sono giocatori che non possiamo regalare a nessuno Ma io sono convinto che chi andrà in campo darà il 200% E quindi non farà rimpiaggere gli assenti Quindi noi dobbiamo avere questa serenità, questa voglia di combattere Grazie a tutti